Vedere in anteprima il nuovo video di Floor? No, noi non ve lo facciamo vedere, vi facciamo vedere cosa succede dietro le quinte di un videoclip musicale, quello appunto di Floor che stanno girando qui a Catania, vi facciamo vedere come si gira un videoclip e cosa succede. Venite con noi al di qua della stella. Fatti apposta a te Francesco Girlinzi per la Cyclope Records, una nuova avventura, un'esperienza ormai consolidata, una nuova avventura che si chiama Floor. Sì, con Floor veramente sono delle belle avventure perché ci stanno dando molte soddisfazioni al di là di quelle che possono essere le vendite perché è un gruppo che soprattutto si sta facendo conoscere dal vivo con tantissimi concerti, quale sia io come i Cyclope, i ragazzi stessi e la Polygram che lavora per noi crede molto. Due anni per scrivere questo disco che è stato scritto sulla strada, quindi durante i concerti e che abbiamo terminato di registrare un mese fa con un mese di lavoro. Un disco molto semplice. Il Floor Dietro di noi qui invece siamo con Marcello, solito rock semplice, diretto dei Floor e invece qui siamo sul set del vostro video. C'è una particolarità. Nel vostro video c'è sempre un animale presente. Come mai? Beh, ce ne sono sicuramente tre dei animali sempre presenti, saremmo noi. Animali da palcosceni, da musica. Sono animali poi di un'altra specie, di un'altra razza che è così per farci compagnia chiamiamo dei simili, cioè degli esseri un po' più simili a noi rispetto agli esseri umani e quindi ci sono tanti animali per questo, ci piacciono gli animali. Giuseppe Capotondi, tu sei il regista di questo video dei Floor, il regista di videoclip che hai lavorato parecchio, sei molto richiesto alla musica dance, però ami la musica rock, quindi questo è un momento molto importante. È vero, è vero, sono contento infatti di essere qua. Questo video dei Floor, tecnicamente, come lo possiamo spiegare al pubblico? Ma hai girato in 16 mm. Quanto tempo ci vuole girare un video del genere? Un video così, due giorni. Quante persone ci lavorano? In tutto penso tra preparazione e montaggio una decina di persone. Hai conosciuto i Floor con loro come si lavora? Molto male. E questo è importante nella musica rock. No, è vero, sto scherzando, sono le brevissimi ragazzi. No, è vero, sto scherzando, è vero, sto scherzando, sono le brevissimi ragazzi. Perché ti parlerò attraverso il mare, ti cercherò attraverso il vento. Grazie. Grazie. Grazie.